ora perché tu possa conoscermi ed essere perciò sicuro che sono io il tuo vero sé che dico queste parole devi prima imparare ad essere calmo ad acquietare la tua mente il tuo corpo umani e tutte le loro attività fino a non essere più cosciente di esse può darsi che tu non sia ancora capace di fare ciò ma io ti insegnerò purché tu voglia realmente conoscermi e sia disposto a darne prova affidandoti a me ed obbedendomi in quanto sto per chiederti ascolta cerca di immaginare l'io che parla attraverso queste pagine come il tuo sé superiore e divino che dà consigli alla tua mente e al tuo intelletto umani e considera questi per il momento come una personalità separata la tua mente è costituita in modo che non può accettare nulla che non si conformi a ciò che essa ha prima sperimentato o imparato e che il suo intelletto non considera ragionevole quindi rivolgendoti ad essa tu adoperi i termini e le espressioni più consoni ad esprimere chiaramente al tuo intelletto le verità che esso deve comprendere prima che la mente possa svegliarsi alla coscienza del tuo intento il fatto è che questo io è te stesso il tuo sé reale la tua mente umana è stata finora così assorta nel compito di concedere al tuo intelletto e al tuo corpo ogni sorta di favori che non ha mai avuto tempo di venire a conoscenza di te suo vero signore e maestro e intanto tu ti sei talmente interessato ai piaceri e alle pene del tuo corpo e del tuo intelletto lasciandotene influenzare che sei quasi giunto a credere che tu sia il tuo intelletto e il tuo corpo e di conseguenza hai quasi dimenticato me il sé divino io non sono il tuo intelletto né il tuo corpo e questo messaggio è per insegnarti che tu ed io siamo uno le parole che dico qui e il principale scopo di queste istruzioni è di svegliare la tua coscienza a tale grande fatto ma tu non puoi svegliarti adesso finché non esci dalla coscienza di questo corpo di questo intelletto che così a lungo ti hanno tenuto schiavo tu devi sentirmi dentro di te prima di sapere chi io sia or bene affinché tu possa dimenticare completamente la tua mente i tuoi pensieri il tuo corpo e le tue sensazioni in modo da poter sentire me dentro di te è necessario che tu segua scrupolosamente le mie istruzioni siedi tranquillo in stato di rilassamento e una volta completamente tranquillo lascia la tua mente assorbire il significato delle seguenti parole sii calmo e sappi io sono dio pronuncia queste parole precisamente come sono scritte cercando di realizzare che è il dio tuo che comanda e domanda dal tuo se mortale implicita obbedienza studiale e cerca di capire il loro nascosto potere senza pensare permetti a questo mio divino comando di penetrare profondamente nella tua anima lascia allora ogni altra impressione che venga alla tua mente entrare a suo piacere senza sforzo o interferenza da parte tua ma notane attentamente il senso poiché sono io dall'interno che ti istruisco per mezzo di tali impressioni poi quando il loro significato incomincia ad apparire alla tua coscienza pronuncia queste mie parole lentamente imperativamente rivolgendole ad ogni cellula del tuo corpo ad ogni facoltà della tua mente con tutta la forza coscienza che possiedi sii calmo e sappi io sono dio medita profondamente queste parole e portale con te nel tuo lavoro qualunque esso sia fa di esse il fattore vitale dominante del tuo lavoro e di tutti i tuoi pensieri creativi pronunciale mille volte al giorno finché non ne abbia penetrato e scoperto tutto il più intimo significato finché ogni cellula del tuo corpo non frema in lieta risposta al comando sii calmo e obbedisci istantaneamente ed ogni pensiero errante che fluttu intorno alla tua mente svanisca subito nel nulla quando le mie parole risuoneranno attraverso la caverna del tuo essere divenuto vuoto quando il sole della conoscenza comincerà a sorgere sull'orizzonte della tua coscienza allora tu sentirai espandersi dentro di te l'impeto l'impeto di uno strano meraviglioso respiro che riempirà fino all'estremo tutte le tue membra mortali facendo quasi esplodere i tuoi sensi con la sua estasi allora sentirai affiotti levarsi in te una possente irresistibile forza che ti innalzerà quasi sulla terra allora sentirai dentro di te la gloria la santità la maestà della mia presenza e allora allora tu saprai io sono dio quando tu mi avrai sentito così in quei momenti dentro di te quando avrai gustato il mio potere ascoltato la mia sapienza e conosciuto l'estasi del mio amore che tutto abbraccia non potrai più essere toccato da alcuna malattia né indebolito da alcuna circostanza né soggiogato da alcun nemico poiché tu saprai allora che io sono dentro di te e da allora in poi ti rivolgerai a me in ogni tua necessità mettendo tutta la tua confidenza in me permettendomi di esprimere la mia volontà e quando ti rivolgerai a me troverai sempre in me nell'ora del bisogno un aiuto pronto ed infallibile poiché io ti riempirò talmente con la realizzazione della mia presenza e del mio potere che ti basterà essere calmo e permettere a me di fare qualunque cosa tu voglia risanare i tuoi mali o quelli degli altri illuminare la tua mente in modo che tu possa vedere con i miei occhi la verità che cerchi o compiere alla perfezione ciò che prima ti sembrava quasi impossibile ma questa conoscenza questa realizzazione non avverrà ad un tratto potrà non venire per anni potrà venire domani ciò dipende solo da te non dalla tua personalità con i suoi desideri umani e la sua umana comprensione ma dal tuo io sono dio entro di te che cos'è che dal bocciolo fa sbocciare il fiore cos'è che fa rompere il guscio al polcino chi stabilisce il giorno e l'ora è l'atto cosciente è l'atto naturale dell'intelligenza interna della mia intelligenza diretta dal mio volere quello che porta a maturazione la mia idea e la esprime nel fiore e nel pulcino il fiore del pulcino hanno qualcosa a che fare in tutto ciò no essi si sottomettono soltanto uniscono la loro volontà alla mia e permettono a me e alla mia sapienza di stabilire l'ora nella quale maturerà l'azione solo quando essi hanno obbedito all'impulso della mia volontà ed hanno fatto lo sforzo che dio imponevo loro di fare hanno potuto passare alla nuova vita tu puoi con la tua personalità tentare mille e mille volte di uscire dal guscio della tua coscienza umana ma potrai riuscire tutt'al più ad abbattere le porte che io ho provvidenzialmente messo tra il mondo delle forme tangibili e il regno dei sogni intangibili una volta aperte le porte tu non potrai più senza molto disturbo e sofferenza tenere fuori gli intrusi dal tuo dominio privato ma anche questo io permetto talvolta perché attraverso tale sofferenza tu possa acquistare la forza di cui manchi e la saggezza necessaria a capire che soltanto deponendo ogni desiderio di sapienza di bontà e perfino di unione con me a beneficio del tuo se tu puoi schiudere i tuoi petali manifestando la mia perfetta bellezza e gettar via il guscio della tua personalità umana passando alla luce radiosa del mio regno celeste perciò io ti do queste istruzioni adesso al principio perché tu possa imparare a ricoloscerne e ti prometto qui che se tu accetti le istruzioni che ti do in queste pagine e ti sforzi seriamente di comprenderle e metterle in pratica tu mi conoscerai ben presto ed io farò sì che tu comprenda tutte le mie parole dovunque scritte in libri o dottrine nella natura o nei tuoi simili se ti pare che in quanto è qui scritto vi siano contraddizioni cerca bene il mio reale intento prima di respingerlo non lasciare una sola parola un solo pensiero finché tutto ciò che esso suggerisce non ti sia divenuto chiaro ma in tutta la tua ricerca in tutti i tuoi sforzi abbi fede in me nel tuo vero se interno e non essere impaziente di ottenere dei risultati poiché essi sono in mia custodia ed io ne avrò cura i dubbi e l'impazienza sono soltanto della tua personalità e se tu permetti loro di persistere essi ti condurranno all'insuccesso e al disinganno un'altra cosa